roberto vecchioni artista anche scritto alcuni libri il grande sogno raccolta di racconti e poesie pubblicato nel 1983 e viaggi del tempo immobile raccolta di dieci racconti 1996 tornate su sinfonica di musical soul e su carazzo un pc in podcast per ascoltare la storia di roberto vecchioni all'interno della rubrica la storia della musica